Preparati per quest'estate. La testina di epilazione in lamina fornisce una rasatura intima, proteggendo la pelle dai tagli e fornendo un'epilazione più pulita. Testina del rifinitore per una rapida rifinitura iniziale di capelli lunghi e folti. Testa del bikini che può raggiungere la linea del bikini e alcune zone difficili da raggiungere. Depile e taglia ovunque e in qualsiasi momento. Rimuovi i peli all'istante. La testina dell'epilatore deve essere utilizzata con un angolo verticale di 90 gradi rispetto alla pelle per ottenere il migliore effetto. La testina facciale in silicone è progettata con particelle massaggianti per detergere efficacemente la pelle. Design impermeabile IPX6, lavabile per tutto il corpo. Ricaricabile con un massimo di due ore di funzionamento. Pulizia più rapida e ordinata.